Eeeh, whattai a tutti, ci urma e benvenuti raggiungerini in questo nuovissimo episodio su Eplugtail Requiem Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like So che ce lo possiamo fare ragazzi, ve ne chiedo davvero pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo Per cui mi raccomando, spolliciate Ed eccoci qua di ritorno dopo che abbiamo finalmente incominciato la volta scorsa questo nuovo gioco Abbiamo giocato il primo capitolo in cui ci sono stati appunto reintrodotti ragazzi personaggi che già appunto conoscevamo Il punto è che si è creata una situazione a dir fuoco spiacevole Perché Miss e Hugo si sono ritrovati ragazzi in un posto al momento sbagliato Quindi non ci dovevano stare lì evidentemente E poi è successo davvero un macello perché Hugo ha risvegliato comunque la sua malattia E Miss è stata costretta ad ammazzare delle persone e quindi è successo veramente il delirio Quindi non perdiamo più tempo, andiamo ad incominciare il secondo capitolo che si chiama appunto Nuovi Arrivati Qui ci riassumono appunto quello che è successo Un tragico incidente con dei contadini spinge Miss a uccidere di nuovo Mentre Hugo si rifugia nella visione di un'isola idilliaca che potrebbe custodire una cura per la macula Riconosciuta dai parenti della vittima, Emissia deve salvare la sua famiglia in uno scontro brutale Che la segna profondamente Giunti alle porte della città rossa, i quattro si mettono alla ricerca di Vaudin Magister dell'Ordine che Beatrice desidera consultare riguardo proprio la malattia di Hugo Quindi siamo arrivati in questa nuova città, dobbiamo vedere di riuscire a trovare questo tizio E piccolissima parentesi ragazzi per quanto riguarda i problemi di cali di frame, di lag Purtroppo il tutto è dovuto al fatto che il gioco non è stato ottimizzato al meglio ragazzi Ho provato di tutto veramente riguardo BS eccetera e purtroppo davvero non posso farci assolutamente niente Sono stata costretta anche ad abbassare un pochettino i parametri grafici Proprio per cercare di ovviare il più possibile a questo problema Per cui ragazzi se si dovessero presentare delle volte dei lag o dei cali di frame Vi chiedo scusa in anticipo però purtroppo non ci posso fare nient'altro Eccoci qua Ho cambiato la lingua ragazzi eh Non c'è nessuno ci attacchera qui, Hugo Questa ville è sotto la protezione del comte di Provence C'è un seigneur molto puissant In ogni caso, è magnifico qui Voi sicuro che l'alchimista ci ci attend? Eh bien, Magistere Vaudin mi ha detto qu'il allait preparare una casa per noi Una casa tutta enta? Oui L'Ordre è molto vecino Il possiede delle masole e molti altre cose Ils ont construit le laboratoires de ta mère E même le château d'Ombrage Tu ti souviens? Oui C'est gentil de nous donner une maison C'est parce que tu es très important pour eux Sa majesté nous permette elle d'entrer dans la ville à ses côtés? Je le permets Ok Ho cambiato la lingua proprio perché Secondo me, ragazzi, rende di più in francese La maison est située sur les hauteurs de la ville Elle a une girouette en forme de fénix C'est compris Guarda caso Ha una banderuola a forme di fénix La fénixie che Hugo, guarda caso, ha visto nel suo sogno L'entusiasmo dei bambini, ragazzi Che bello che è Perfetto, va bene, dai Allora, vediamo un pochettino Cosa troviamo l'interessante C'è un pochettino Wow Beh, oddio All'epoca, ragazzi, non è che l'igiene proprio facesse impazzire Però, vabbè, uno che ce può fare Erano quei tempi, insomma, erano quei tempi E qualcun altro c'ha qualcosa da dire? Ma pare di no Perfetto, quindi continuiamo Vi san Giovanni Ma dai Grazie, grazie, grazie La gente è entusiasta, eh Si vede Davvero, davvero entusiasta Comunque Vabbè, continuiamo Che cosa? Che bello, dai Wow Cioè, no, regà Allora, bisogna comunque Notare i dettagli, eh Cioè, da notare i dettagli Cioè, guardate questi tappeti, ragazzi Mamma mia Cioè, c'è da dire che Dal punto di vista grafico Hanno fatto veramente un lavorone, signori, eh Davvero un lavorone Esatto Vabbè, lei è rimasta veramente molto scossa, ragazzi Da quello che è successo Comunque dobbiamo passare proprio qua in mezzo Intanto per cambiare E se vuoi cambiare Non, merci Elle me plait bien Comme ça Oh, tant mieux La chevelure d'une dame Est un précieux trésor C'est bien dit, oui Tes cheveux sont très bien Comme ça Mille merci, monsieur Et quoi? D'accord Che abbiamo Eh, mamma mia Che brutto, raga Che brutte cose C'est vrai, oui Bello, 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 ragazzi Veramente Bello tutto, cioè Che dettagli Che brutto cose Imagine le vettement Qu'on peut faire Regarde, des fleurs Il y en a tellement Des soucis Des primes verts Oh, tu connais ton herbier, toi Je connais que les fleurs Ma maman m'a appris On les garde dans un livre à la maison Veux-tu en acheter dans ce cas? Merci, mais Nous aimons les cueillir dans la nature Viens habitude Je comprends Au revoir Grazie, signora Gentilissima Andiamo, andiamo Sì, sì Stai calmo, stai calmo Mamma mia Super, super entusiasta Ammazza Quello è un tonno Porca vacca Che tonno, signori Che tonno Vabbè Vediamo un pochettino Oh Ma ovvio Un jeu? Qu'en dites-vous, madame? Vous avez l'air d'un gagnant Infatti lo è Lo è Lo è Ha un'ottima mira Amicia Dai, giochiamo D'accord Allora, quels sont les règles? Vous avez quatre tirs pour enverser autant de cubes que possible Compris? Certo Quattro tiri Va benissimo Prontissima Però Di riuscire, ragazzi Ok Uno E Due Vediamo un po' Di riuscire ad arrivare là in fondo Tre E là in fondo Ancora Ancora più in fondo Quattro E Grazie Grazie Salve Va bene Dai Carina sta cosa Comunque Ed è incredibile Continuo a dire Dal punto di vista dei dettagli Ragazzi Veramente Incredibile Mazza Il mangiatore di fuoco Wow Comunque mi sa Che ci conviene davvero andare Continuiamo a salire Anche se resterei Devo dire Davvero ore Ragazzi A guardare tutto Qui intorno Ah Mazza Forse non vuole stare da solo Sarà qui? No Non lo si va di qua Eppure lo stendardo Della fenice è lì Ma forse bisogna salire ancora Proviamo a continuare Ragazzi Aspetta Ti aiuto io Hoppla Hopla è bello ragazzi perché comunque si vede anche come erano i posti all'epoca come funzionavano vedete ad esempio una fiera, un mercato cioè davvero molto bello andiamo ok lo portiamo in spalla che carino lo spero perché questo povero bambino ragazzi ha vissuto veramente cioè solo drammi praticamente oppla andiamo ci siamo ah è di qua ragazzi dove proprio dove c'è lo standard della finice ehi lucas ciao che bello che meraviglia ragazzi veramente bellissima dai andiamo non sono stanco continua a sbadigliare Yugo dai ok la mamma dov'è tra l'altro la mamma dov'è 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 Oh, oh... Oh, 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 oh... Cioè, lei ragazzi è comunque... Non sta bene, nel senso che è rimasta comunque segnata da tutte le cose che sono successe, è rimasta segnata dal fatto che forse è dovuta crescere troppo in fretta, ha dovuto fare cose che forse mai si sarebbe sognata di dover fare, tipo uccidere delle persone. Quindi... Ok... Di sicuro appunto qualcuno lo conosce, basta... basta chiedere. Ok, vediamo. Eh, buongiorno, pardonne-moi, savez-vous où nous pourrions trouver le magistère Vaudin? Je connais un messire Vaudin, mais pas de magistère. Allez donc voir les fleuristes au marché. Il me semble qu'il leur rend visite de temps en temps. Merci. Ok, grazie. Va bene, corriamo al mercato allora. C'era quella tizia dei fiori. Dovremmo, esatto, la fioraia. Dovremmo chiedere a lei. C'è un début, c'è evidente. Il ne peut pas utiliser publiquement le titre qu'il porte au sein de l'ordre. Nous sommes passés devant un fleuriste tout à l'heure. C'est quelque part du côté du marché. Era qui. Qua c'est le pêche. Dov'est? Ah, c'est là. Salve signora, buongiorno. Scusi, Armand. Oh, c'est encore vous. Vous cherchez des fleurs pour les petits? S'est bloccato. En fait, nous cherchons messire Vaudin. Je crois que c'est un de vos cliente. C'est un cliente de mon mari. Lucas, che fai? Vicino alla fontana, tunica marrone. Che fontana, tra l'altro? Che non ho notato alcuna fontana. Non so se era prima o se era comunque dopo. Vediamo un po' di qua, ragazzi. Non ho notato alcuna fontana. Forse è questa. E questa la fontana. È lui. Salve signore. Buongiorno anche a lei. Scusi, eh. Sia gentile. D'accordo, d'accordo. Je ne sais pas exactement où, mais je crois qu'il habite près de l'Arene, là-bas. Et ce n'est pas moi qui vous l'a dit, hein. Ne y'ai crainte. Merci. Bien, ne perdons pas de temps. Laggiù, quindi suppongo di dover andare di qua, raggiungi l'arena. Ecco l'arena. Perfetto. E qua in arrivo, Dio, perché qua in arrivo? L'ordre è riche, che fa un magistère dans un endroit parei? Il se cache, sans doute? Oui, sans doute. Probabilmente sì, magari si tiene un onimo. Eh, ma... E qua in arrivo, Dio, perfetto, perfetto, perfetto. Andiamo. Minchia, Lucas, intrepido, eh. Non si va a mettere i piedi in testa. Nel senso, guarda, trovo un'altra soluzione, non me rompe il cazzo. Assolutamente sì. Andiamo. Hugo sta male. Purtroppo la sua malattia, ragazzi, si è risvegliata. Bisogna vedere e ritrovare una soluzione. Cioè, così... Non si può andare avanti, però, eh. Ecco. Minchia, ecco perché tengono l'arena chiusa, perché hanno lasciato... Cioè, hanno lasciato la gente qua, ragazzi, a morire. Mio Dio, dai. Cioè... L'indifférence generale. Sans doute. Dai, che cosa terribile, eh. Non oso immaginare l'odore. Già si vedono tutte queste mosche, febriamoci. Un altro symbole. Bon, il n'y a plus qu'à entrer. Andiamo, allora. Speriamo di riuscire a trovare questo tizio. Magari, probabilmente, sì. Là-hù. Il y a un passaggio. Y a forsement un moyen de grabber. Sì. Ci serve questo. Je vais t'aider. Ok. Si voudrait ici, il est en danger. Il connaît la morsure. Il doit éviter les malades. Luca, si tous ces gens ici n'étaient mordus, ça veut dire? Pas forcément. Un malade aurait pu l'amener all'interieur de la ville. Un guaio, ragazzi. Perché, cioè, se sta cosa sta ricominciando... Altro che poi persone che sorridono e tutto il resto appresso. Inizierà l'incubo pure qua. Madonna. Vediamo. Signor Baudin? È qua? Chissà dove... Non posso... Mamma mia, come facciamo? Quindi, quelli che hanno il casco non... L'elmo, altro che casco. Non posso fare assolutamente nulla. Posso attirarlo di qua ragazzi Attenzione Ok Passiamo qua dietro Potevo usare questo in effetti No porca miseria Aspetta devo selezionare il vaso esatto Ecco qua Ci manca solo che per starvi Attenzione Esatto ti sei proprio sbagliato amico Guarda vai via Ok Passiamo adesso ragazzi Oddio finchè siamo in tempo Anche se qua in fondo Ce ne sono altri Oddio Ma porca di quella No raga Oddio Raga qua la situazione può essere Può essere veramente Può essere Oddio Oddio Veramente problematica No Mannaggia Eh che è facile Lucas È facile per te Dio non ti fa vedere È tesoro mio Eh niente regà È andata Via Meglio correre Oddio Oddio non posso uscire da qua Ecco qua Niente allora Mi sa che questa è andata di merda Questa è andata di merda È andata di merda Devo cercare un attimo appunto di Di non farmi beccare ragazzi Per quanto possibile Quasi è riuscita da sta parte È ok Non so se posso far il giro di qua sinceramente Prima che mi vedano Sti bastardi Maledetti Ok forse Forse ce la faccio Forse ce la faccio Però sempre meglio appunto Stare attenti Andiamo Io vado Come se non ci fosse un domani Io vado Mi saliamo di qua E vediamo un po' la strada Però dove ci porta La strada Qua c'è una porta Attenzione Non l'avevo vista prima Forse Lucas aiutami Per favore Ok Bene Stavolta Non abbiamo creato Troppi problemi Perfetto Eh regà Ma avete visto Che ci sta qua Madonna Oddio Regà Oddio 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 Madonna regà Ma quanti ce ne stanno Oddio Si li abbiamo visti infatti Tutti sti cadaveri ma è terribile Oddio raga Come devo fare Ok ragazzi Esatto La risposta era proprio qua Oddio 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 Via via Cerchiamo di andarcene velocemente Lucas Dai su Che cosa terribile Ma come Forse dobbiamo tornare indietro Proviamo Comunque raga io sono davvero Senza parole Dal disgusto E' una cosa davvero terribile Mamma mia Mi sa che ci siamo Ecco fatto Andiamo Lucas per carità Per carità di Dio Che qua te prende una malattia Soltanto a respirare C'è l'impressione Mamma mia E io me lo prendo Tira Dai Dai Eh sì Eh sì Lucas Cioè se uno Cioè se uno è costretto Che deve fare E' una cosa triste Per carità Però Cioè Non si può fare altrimenti E' un'altra E' una cosa che si può fare E quindi Allora questa zona Mi sembra davvero poco raccomandabile Direi Pure l'arciere Che meraviglia Imbesil E come ludo adesso Tutta sta cosa Proviamo un attimo Vediamo che succede Si ottimista E missia Dai cerchiamo di Eppure noi Guarda ci è successa la stessa Era antica cosa amico Cercavamo un alchimista E abbiamo trovato Un massacro Ok Veloci 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 Vedrà Ci vedrà Ci vedrà Ci vedrà Ci vedrà Ci vedrà Ci vedrà vabbè ma era ovvio era ovvio ragazzi e niente già sto morendo quindi non è questa l'opzione giusta mi pare ovvio anche se io continuerò a correre come se non ci fosse eh vabbè beh l'opzione farsi scoprire non è un'opzione ragazzi questo è rimasto chiaro? è chiaro a tutti? io lo devo rispiegare niente vado 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 oddio niente da fare no 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 eh vabbè ma porca di quella miseria però non è un'opzione di nuovo lo devo rispiegare? se ti puoi rimando qua che succede? non me li non ci credo non ci credo cioè ma non mi ha visto fino ad ora sto stronzo vai a farti furtere grazie avevo davvero bisogno ma posso ucciderli furtivamente almeno quello di regola lo posso fare mi auguro questo bastardo sta girato costantemente di qua mannaggia santa aspettiamo che si giri l'arciere ragazzi e speriamo di riuscire stavolta a iludere le cazzo di guardie vediamo ce la farò questa volta incrociamo tutte le dita per favore pure quelle dei piedi dai te prego te prego te prego ok ah chiudi 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 oh oddio mamma mia che ansia raga il cao governa nosi questi giorni fanno partire e tu apprendi a fare con io lo vedo tu hai stato abbastanza discreta là sì ebbene mi vuoi imparare le vie che rischia la mia missia talenti è un missio aumentare automaticamente la sua patronanza di tre tipi di talenti a seconda del tuo stile di approccio e degli strumenti che usi ah tipo c'è una crescita intelligente tra virgolette quindi vedete per ora ho sviluppato la cautela principalmente bello interessante comunque va bene riusciremo comunque a trovare questo tizio boh se è così lo si può definire terribile davvero terribile mamma mia ragazzi cioè ci stanno morti dovunque dio santo andiamo lucas cioè purtroppo noi materialmente non ci possiamo fare nulla ed è anche questa comunque è una cosa brutta perché il senso di impotenza ragazzi ti devasta quindi procediamo e vediamo se riusciamo a trovare questo questo benedetto vodan 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 spettacolare è bellissimo però sapendo cosa ci sta in mezzo perde un po' il suo fascino se ci stanno tanti i cadavri ma sto coso non regge non regge ragazzi io ve lo sto dicendo mi sto pisando e chi l'avrebbe detto che per trovare questo stronzo dovevamo fare un viaggio di 10.000 miglia oddio reggiti reggiti è su ste assi oddio corri l'avrebbe detto in mezzo l'avrebbe detto l'avrebbe detto l'avrebbe detto qui madonna raga oh mio dio oh mio dio qu'est ce ti fa? qu'est ce la? ne lascia pas la torche tant que vous la tenez il ne peut rien vous faire qu'est ce ti fa? venez avec nous nous devons remonter à la surface le soleil nous protégera calmez vous vous ne risquez rien d'accord oh mio dio oh mio dio oh mio dio continué d'avancer non arrêtez pas oubliez ne avance oh mio dio oh mio dio oh mio dio ma che c**o oh mio dio oh mio dio oh mio dio Ok Ok Trendo io la responsabilità Mamma mia ragazzi Mio Dio ragazzi È terribile Oddio È veramente incommentabile ragazzi Cioè Madonna santa quanti cazzo sono Quanti ce ne stanno Accendiamo qua Ok Accendi accendi missa Eh sì certo Come lo portiamo qua in mezzo No Te lo prometto Lucas La terrò veramente bella salda Ok Con la torcia in mano Ovviamente non possiamo fare nulla Quindi ci tocca purtroppo Accoggiarla Eh Non abbiamo altra scelta Lucas Per fortuna Porca di quella miseria Ci serve Il bastone Bruciano solo per qualche istante Dobbiamo arrivare là in fondo ragazzi Ok Sì 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 Ci provo Ci provo Lucas Facciamo il possibile Mamma mia Cioè questi la notte ragazzi Cioè fuori fanno festa e fiera È il delirio E adesso Ah ci sono i bastoni qua E chi li ha visti Ok Tieni Reggiti a me Lucas Andiamo Dobbiamo riuscire ad arrivare là in fondo Mi auguro che è lì che dobbiamo arrivare Ce la faremo Ce la facciamo Ce la facciamo Dai Lucas So che la situazione è veramente tragica Però E certo Un po' di ottimismo Ce la faremo Ce la faremo Ce la faremo Una scappa Puoi lanciare gli oggetti che tieni in mano Perfetto Vai Ok Facciamolo cadere Magari se prendo la fionda Sarebbe meglio E Giù col braccio Ok Andiamo Greve Grevissima la situa Veramente grevissima Dio santo Vado a rata Mi sento meglio Che Che Posso Reprendere il mio souffle E Vite Dillo Non so ne so ne so ne so ne so quanto tempo La vaturi Va bene Va bene Va bene Bene ma non benissimo Va bene Vraiment Addio Un putra Sei l'unico Andiamo Dai Lucas Su Doucemente D'accordo Surtù Perchè hai pensato negativo Lucas Ecco perchè è successo Cerco di fare il prima possibile Ci sono ci sono Oddio Oddio erazzi Oddio erazzi Oddio erazzi Niente gli devo lanciare là Gli devo accendere là Ci arriva secondo voi Vediamo Sì Eccola Ok Te lo lancio Tieni Forza Lucas Puoi farcela Lucas Veloce 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 Ok Lo so Andiamo Mamma mia che ansia Che ansia terribile Che ansia terribile Ok qua c'è una volta Mi auguro di sì Che piano Che piano Che piano Su cosa Oddio Andiamo A sto punto delle cose Probabilmente Hugo è morto Ragazzi Cioè Siamo qui da 30 anni Io me sono fatta vecchia Ho presa la pensione Però vabbè Dettagli Vediamo Spolpati Spolpati Alla grandissima Hanno fatto peste e fiere Rattarsi qua ragazzi I franco I maledetti Franco Franco Perché 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 Ve lo dovete comportare così Ma ste ossa Tra l'altro Tipo di mammutto Che è L'elefante C'è enorme Cerchiamo un'uscita Allora Salendo di qua Ci sono queste leve Zolfo Beh pure lo zolfo effettivamente puzza Tipo di uovo marcio Ok Stiamo aprendo Sperando Di riuscire a trovare qualcosa Perché qua la situazione La vedo alquanto Difficile Davvero difficile Come ci arriviamo Ok possiamo Farli Immobilizzare Ok Scendiamo E cerchiamo di fare Veloce Perché sinceramente Guarda Amicia Stavo per dire Che non ci tenevo A farmi spolpare Questo stavo dicendo Proprio questo Ok Però lui Giustamente Mi ha detto Non basterà Eh Ma non basterà Che altro cazzo Che altro cazzo Gli devo da Ma deve passare qua Eh infatti Grazie Siccome Era la mia intenzione Cadere Proprio in mezzo ai ratti Allora Che altro Tenete Tenete Da mangiare E pare Che appunto Non hanno Messo Mangiato Questo cazzo Ecco Alcol 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 Vado eh Me ne vado Spero di fare in tempo Realmente Perché C'è la parola C'è la parola C'è la parola Via 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 Con calma Adesso Il faut un autre élément Et on pourra fabriquer de l'unifère Tu te souviens ? L'unifère Je l'avais oublié Allora Vero Era così Que se chiamava C'est du soufre C'est ça ? Oui Il y en a deux répandus Sur ces planches Le coffre là-haut Dovra contenir plus Du soufre pur Ce serait parfait Alors montons voir E come Come j'arrive A scala Semplice Veloce Rapido Saliamo Il manivelle Il y a un mon charge Evidemment Est-ce que ça va ? Oui C'est un plus beau jour de ma vie Lucas Tu dois le faire Naturellement Tocca a te Mazza Che muscolacci Che c'ha Lucas Vado Si 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 Cerco di fare Più veloce possibile Eh Avvi nato Pazienza Eh si ma giralo Ahimissia Eh sennò come cazzo C'è facciamo A portarlo là sopra Si ma perché non lo gira Perché Ok Mamma mia Il millimetro Vai Premi L1 E un triangolo Perfetto Adesso posso scendere Bellissimo Magari è già morto Per essere un po' ottimisti Eh Magari già ci ha detto Ciao ciao Ok perfetto Vedete questo ragazzo E' uno di quei momenti In cui i frame Calano Così a caso Come gli pare Ah Zolfo Beh la puzzare Zolfo Si riconosce Ok Zolfo Alcol E che altro Ci manca Ok Ora puoi creare Il lignifer Ragazzi Tieni premuto R1 Usa Tasto direzionale Per selezionare Lignifer Tieni premuto X Per crearlo Ancora Ma sì dai Tutte le munizioni Possono essere usate Con qualsiasi arma Seleziona La fionda C'è l'ultima Lanzalo sui Cebrazze With the front E Speriamo Che ça marche Speriamo Speriamo Lucas Incrociamo i dita Et hop assolutamente ovviamente le munizioni create con l'innifer ci aiutano a spostarci il punto l'ala in fondo scendiamo vediamo un attimino qua possiamo attizzare appunto il fuoco quindi toglietevi da cazzo chi se ne frega sti cazzo allora quindi adesso è importante anche trovare altri elementi ragazzi ovviamente quindi non ci resta che appiccare un po' i fuochi ok ogni effetto può essere combinato con un vasetto attenzione quindi tieni premuto seleziona il vasetto quindi il vasetto è fuoco crea un'ampia aria di effetto temporaneo all'impatto quindi dobbiamo sbrigarci ok adesso temo che dovremmo ragazzi darvi da mangiare alle peschiacce quindi se vi spostate ci fate un favore grazie via forza lucas o vuoi che ti immagino le unghie dei piedi penso proprio di no quindi forza c'è un'altra leva se non sbaglio anche dall'altra parte quindi d'accordo vado vado ovviamente mi avventuro io mi avventuro io e di qua l'altra leva bene allora selezio devo rifare un po' di nifer ovviamente e ecco fatto allora intanto voi mi togliete dai coglioni si altra roba utile assolutamente utile quindi cerchiamo di raffognare il più possibile si 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 ma eh c'è è meglio di così cioè è veramente difficile veramente difficile ci siamo ritrovati in una situazione di merda tanto per gampiale quindi niente mi sa che devo usare un vasetto ragazzi non vorrei dire ma mi sa proprio che mi tocca usare un vasetto anche se sinceramente mi sembrano veramente troppi per la sua portata ma ci proviamo no che cazzo ho fatto pure io con i due ne devo lanciare forse porca vacca che bello che bello che bello forse ne devo lanciare i due non lo so aspettate questo prima non l'avevo notato ragazzi l'anello ah cazzo ho sprecato pure una roba ok possiamo farlo cadere giustamente intanto così ci apriamo un po' più di strada qua si qua a me sa proprio che me tocca usare il vasetto ecco perfetto che schifo il franco con i loro codoni rosa ci siamo pronto vai è bellissimo ragazzi in francese eh ok ok allora me devo muovere prigiamo ci bello che tutto come on ha fatto con enormemente d'habilità e patience oh yeah ho che non non voglio che sono attaccato ma vediamo sono è più più ma ma il tema e pulsa. Allora vediamo un attimino dove ci ha portato ragazzi tutto sto percorso Ok La torre Ok ragazzi allora mi ha appena salvato la partita quindi non siamo riusciti a trovarlo oggi purtroppo questo signor Vodemma perché appunto il percorso era davvero lungo e il punto è che siamo in un mare di guai ragazzi perché purtroppo la minaccia dei Franco è tornata più forte e terribile che mai e loro sperano appunto di avere l'appoggio dell'ordine finalmente ma io purtroppo ho un cattivo presentimento a riguardo e quindi sono davvero curiosa di vedere come continuerà questa storia. Come sempre ragazzi aspetto i vostri pari qua sotto in commento, questo video termina qui, grazie a tutti un bacione Obdos a tutti ragazzi la giocherina Ciao 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 Grazie a tutti.